Vecchio, tu porti una maledizione. Devi pittere la mano sopra la pietra. Non ci credo. Non saprei proprio come usare questo. La chiave dovrà agire. Le tue mani contrari, ma è la chiave della tua canzone. Ehi, giù le mani! No peculi! Tu diventi un mostro a tutti i tivoli. I custodi corrompono le realtà distorte, permettendo ai loro padroni di impadronirsi di questo mondo. Stanno arrivando. Hanno già corrotto questo mondo con la loro immonda presenza. La scelta è caduta su di me. Hai il marchio, la maledizione. Ecco fatto! Il ritorno è iniziato. Questa è una stanza di segrete. Sapete a cosa mi riferisco? Questo è il massimo che possiamo fare per contenerli. A l'estate! Sì! Sì! Il volontario invoca la potencia. Non so, non so, non so. Un'immagine, un'utra volante... Un'immagine, un'immagine, un'immagine... Piero cargo! Kaboom! Armi che appaiono dal nulla. C'è lo zampino di nero... Ma senza saperlo... Una cintura da campione... Un po' più lontano, per favore. La palestra di Pugilato. Questo luogo... Ti affamiliare. Il sacrificio è stato scelto. Pugilato in casa. C'erano quasi bene, a po' più schifo. Pugilato in casa. C'erano più grande. Grazie a tutti.